Presentato a Pescara il Festival Abruzzo dal Vivo 2021. Il cartellone contiene oltre 60 spettacoli ed iniziative culturali che animeranno nel periodo estivo i 23 comuni aderenti al progetto con la partecipazione di 300 artisti. L'iniziativa è stata ideata dalla Regione Abruzzo con i finanziamenti del MIBACT programmati per la rinascita dei territori colpiti dal sisma del centro Italia. Alla cerimonia di presentazione oltre ai sindaci dei comuni interessati ha partecipato l'assessore con delega agli enti locali Pietro Quaresimale. Abruzzo dal Vivo è il festival della rinascita della cultura come strumento di aggregazione e di crescita ha esordito l'assessore Quaresimale. Si tratta di un evento importante che abbraccia i borghi danneggiati dal sisma 2016-2017 con l'obiettivo di valorizzare i territori. La Regione Abruzzo è impegnata già da tempo, ha proseguito l'assessore, a promuovere interventi specifici per rilanciare la crescita e il turismo delle aree interne e delle comunità montane. Crediamo, ha concluso, che questo pezzo di Abruzzo debba essere sostenuto e tutelato.